Una perturbazione proveniente dalla Francia ha interessato il centro-nord dell'Italia. In seguito, la permanenza di aria fresca in quota sulla Francia tenderà a coinvogliare correnti moderatamente instabili verso la penisola italiana per i prossimi 3-4 giorni. Lunedì 30 maggio in Toscana, cielo variabile con schiarite anche ampie, addensamenti più consistenti sulle zone del nord, dove saranno possibili locali rovesci, in particolare a ridosso dei rilievi. Venti forti, mari molto mossi, temperature minime e leggero calo, massime e leggero aumento. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con possibili piogge mattinata sulla Piana di Lucca in Valle del Serchio, miglioramento dal pomeriggio. Cielo da poco nuvoloso a Sereno in Versiglia. A Lucca nella Piana, temperatura minima prevista a 15, massima a 22 gradi. In Versiglia minima 16, massima a 19. A Castelnuovo e zone montane, minima 12, massima a 21 gradi.